Comunali di Venafro, la macchina delle liste è in piena corsa, mentre scriviamo mancano già meno di due giorni al termine ultimo per la presentazione al comune delle compagini in Lizza. Quali e quante? Nessuno lo sa con certezza. L'unico punto fermo, Adoras, la lista dell'uscente Ricci, riconfermato il candidato sindaco e la gran parte della squadra che nel 2018 gli ha consentito di salire a Palazzo Cimorelli da vincitore. A proposito, in quella compagine ci saranno di nuovo i pezzi da 90 dal punto di vista della capacità di intercettare voti. Anche Angela Maria Tommasone, nonostante il richiamo delle sirene di Palazzo Daimmo, ad usare una metafora calcistica dovrebbe essere della partita al fianco di Ricci Capitano. Veniamo ai competitor. Ieri sera consumatasi l'ennesima riunione convocata da Enzo Bianchi nel redigenda lista del primario ed ex sindaco. Al momento ci sarebbero una decina di nomi. Nonostante siano non poche le caselle ancora da riempire, indiscrezioni raccolte da chi lo conosce bene descrivono il candidato sindaco in pectore come estremamente motivato a chiudere la lista per ritornare a Palazzo Cimorelli da primo cittadino. Le aspirazioni di Anna Ferreri e dello stesso Fabio Ottaviano a correre con una propria lista avrebbero subito in queste ore una battuta d'arresto. C'è addirittura chi dice che alla fine nessuno dei due sarà della partita. Anche Luigi Viscione avrebbe il suo bel da fare per mettere il sigillo alla lista. L'architetto e presidente della locale Proloco, pur partito prima degli altri competitor, non può ancora essere certo che la sua corsa verso il Palazzo di Città sarà da sindaco, tanto che al momento non si esclude una convergenza tra Bianchi e lo stesso Viscione. In attesa di sviluppi tutto può ancora accadere.